Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Report TCG con le liste come sempre per andare a vedere una piccola analisi E vedere che cosa c'è in questo meta, se c'è qualcosa che spicca Speriamo di sì perché come abbiamo visto ogni tanto c'è qualche deck che ho fatto oppo vince E comunque si esalta sempre tra il mucchio che ormai conosciamo sempre Prima di iniziare ragazzi io come sempre invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati, ricordo che l'iscrizione ci dà una mano veramente enorme Grazie mille e partiamo subito con un mazzo che è bellissimo Bellissimo nel senso un po' più ironico del termine perché insomma guarda che roba manco c'è un mostro dei miei Allora, c'è O c'è l'ispettore che avrà il calavolaggio e stanno a posto Comunque, primo posto per un runic stan, bello eh E' bellissimo perché c'ha anche Mindsoul Questo del drago che mi pare negava, io non facevo care mostro dello 6 o inferiore Tipo comunque con la tomba del drago Ci avevamo fatto anche un video un po' di tempo fa Corruzione oscura Grande carta Ce ne può essere soltanto uno skill drain Scontro cose nella rivalità dei signori della guerra Guarda che roba Mamma mia Poi c'è anche lui che è molto forte Sfera di là e l'altra cosa Insomma Eh, abbiamo deciso di andarci molto leggeri con questo deck Guarda Molto molto leggeri Il messaggero di pace Grande carta come sempre Insomma Poi venivo posto per un cash tira puro Un cash tira puro che dà un bel pezzo che non si vede un cash tira puro Quindi diciamo è tornato un pochino Vediamo se comunque ci saranno altri cash tira Non penso ci saranno altri cash tira puro Però comunque insomma Ha fatto il suo dovere arrivando primo Comunque è un mazzo che magari ne terminano i match up Va proprio tranquillo, tranquillo, tranquillo E quindi ci può stare, ci può stare È stato un po' inaspettato però insomma Diciamo che non è che sia uno dei quei mazzi da buttare via Tierlamet si conferma Si conferma Arriva secondo Tierlamet Horus Destiny Perché c'è sempre La parte Destiny Non c'è Ragnar Però c'è comunque il nostro Grande irreprensibile Malicious Sempre con Comunque Gli Shih Tzu Onnipresenti Horus ovviamente Destrudo Anche Destrudo Sempre le super poli Che comunque C'è i target super poli Anche perché comunque abbiamo visto C'è stato un sacco di mostri Fusione C'è un sacco di deck che comunque utilizzano i mostri Fusione O comunque ti fanno Little Knight con il barone In modo per sfruttarla Ce l'hai Poi Norwich Dragon Link Con lo Shiranui solitario Con lo Shiranui solitario per farti uno zombie Cioè per farti uno zombie Se c'erano zombie mi pare che questo ritornava Così c'è un mostro di livello alto Io non mi ricordo niente Mannaggia a me Non mi ricordo niente Comunque era una gatta che utilizzavo nello zombie Ovviamente perché mostri due zombie livello 2 Tuner Che ti fa anche pescare Non è malaccio Però col fatto che non mi ricordo bene l'effetto Non so dove cavolo Te lo voglio afficcare Magari non c'ha la lock dello zombie Molto probabilmente non c'ha la lock dello zombie Non ricordo bene Comunque Dragon Link Che pure lui C'è magari un pochino più spesso di alcuni deck Mi sa che No Stavo pensando c'è lo stesso coso di Rick Ma in realtà Rick si trova un penino di più E L'abbiamo visto fare un po' più roba Mi sa Però comunque più o meno è quasi quello Il range di trovabilità del deck Per dire E poi andiamo a vedere Qui ci sono tantissimi mazzi Allora aspettate Aspettate che parto da Allora C'è la chimera tribrichette Che mi ricordo che forse Non l'avevamo visto Può essere Che non l'avevamo visto Nel dubbio lo andiamo un attimo No Questo non l'abbiamo visto Quattro giorni fa l'abbiamo visto Poi ho posto Unchained Vediamo se questo qui l'avevamo già visto Perché io ormai mi impaso dai giorni In cui viene pubblicata la roba No Allora WCQ Caritaro Con Unchained Che Unchained si conferma essere Credo il mazzo più forte che ci sia Perché è quello che ha fatto anche Più top Più vittorie In assoluto Quindi C'è anche Ci sono anche le volte in cui Vabbè viene schiaffeggiato Come Marshall schiaffeggia Barney Stinson Però Insomma Penso sia il mazzo più forte che ci sia In circolazione Insieme anche ad altri Però credo che questo sia un pochino Poi Ok Cache Tiro l'abbiamo visto Tialamence Horus L'abbiamo visto Poi Centurion Il primo posto Per WCQ Di Rain Che l'ho pronunciato malissimo Sì molto probabilmente Ormai me le lasciate passare Fanno così schifo Che Ce la vedete Me le fate passare Tutte queste Pronunce Grazie anche per questo Si conferma la versione classica Con tanta HT E con Ovviamente Fenrir Che va a rompere Le uomini del paniere E questo Gioca a Phantasmay Ok Phantasmay l'abbiamo visto Molto 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 in OCG Qui un pochino meno Però mi sa che Mozzini ricomincia a giocare Forse Forse Non è detto Poi Tialamence Destiny Primo posto Granville Regional WCQ Ok Lui gioca a Ciccio Si conferma comunque Lista abbastanza Diciamo Lista abbastanza classica Però ogni tanto qualcuno Fa le sue modifiche Quindi Ok Qui c'è anche l'unchained E ok C'è il distruggi carte Ok Primo posto Quindi diciamo che il mazzo Gira Sono curioso poi magari di provare Qualche lista di queste In realtà Non per rubare Ma soltanto per provarla E vedere effettivamente Quanto picchia Poi ovviamente Sta tutto nella bravura del giocatore Quindi se io le provo E prendo schiafi Molto probabilmente La colpa è mia Poi il secondo posto Centurion Ok Anche questo si Con le Ht Tutto il resto Gioco anche super poli E ok Lo spellbound decide Va bene Volevo vedere L'altro non lo giocava La super poli L'altro non giocava La super poli Questo si è Piazzato Tre posti in più C'è anche il negate Del Dark etipo Ok Si lascia giù Che chiara molto bene Non giocano molto Le desires Ok Alla fine Poi è tutto in tre per Quindi ci sta Poi Quarto posto Per labyrinth Che con transition Drawback Secondo me Dalla labyrinth Poi inizierà a diventare Un po' più Un penino più forte Un penino più presente Perché è una drappola Veramente assurda Quella Quindi Maze of millennia Per Il Competitivo Mi sa che dà Un bel booster Perché c'è comunque Quelle 3-4 carte di supporto Per questi mazzi Che sono veramente rotti E poi bisogna vedere Che cosa va Airbound Airbound parte Da for fun Secondo me Però insomma Roba la può fare Abbiamo Mandanium Scareclaw Che anche il mandanium Comunque picchia tantissimo È un mazzo Che comunque Ti può fare Su bordo Delle neghette Importanti Il baggerio partino Extra Quindi diciamo Anch'esso È un mazzo Che picchia Come avevamo Prannunciato Quando uscimmo Andando Mi avevamo detto Che sarebbe potuto Diventare T1 Ci ha messo Un pochino Di più Di quello Che io avevo detto Però insomma Come possiamo Vedere C'è anche Lo speed Well Queste sono le carte Presentate Già che ci siamo Poi Allora Primo posto Tierlaments Horus Molto simile A quella che avevamo Visto Già prima Quindi vince Lakeworth Regional Questo non mi ricordo Che tipo di carta È La goddess Ovviamente Che è comunque Carta Molto buona Abbiamo Labyrinth Abbiamo Tierlaments Danger Top 8 Purely Infernovo Diabelle Top 4 Secondo posto Per Sprite Primo posto Per Purely Ma le apriamo Tutti Gravekeeper Cioè Gravekeeper Per me Ha vinto Non l'ha fatto Top 8 Ha vinto Allora Secondo posto Per Labyrinth Che comunque Conferma di avere Anche delle carte Trappola Qui abbastanza Oltre ai virus Cioè Anche il virus Mi pare che era Piana forza Questo Di varia dimensionale Questa qui Purtroppo Non mi ricordo Che fatto Dovrei segnarmi Nelle carte Prima di iniziare A registrare I video Sì Effettivamente C'è una regione Comunque La print Si conferma Secondo Secondo Del Credano Regional Abbiamo Un top 8 Per quanto riguarda Tierlaments Danger Ok Questo si gioca Anche un Gamma Siel Per Giustezza Ci sta Chi è Gamma Siel Per giustezza Ci sta Poi abbiamo La pure Un pure Top 8 Infernoble Diabelle Star Zagreb YCQ Che fa una Top 4 Quindi molto Dignitoso Infernoble Quindi Ci sta Ogni tanto Con un rateo Non troppo Frequente Però comunque Delle volte L'abbiamo L'abbiamo Visto Un bel po' Di volte Che comunque Entrava in top Quindi non è neanche Così raro Trovarlo Secondo posto Per sprite Che ha iniziato A fare Proprio di cosine Ha deciso Di diventare Meno timido Quindi ha iniziato A fare roba Ha iniziato Comunque Appunto A fare più roba La vediamo più in top Vediamo se poi comunque Si troverà ancora più spesso Perché comunque È la seconda volta Seconda volta di fila Che lo troviamo Quindi è interessante Chissà se Si confermerà Primo posto Per Purely Questo invece Da Diciamo Da top 8 Troviamo Purely Primo Quindi Anche Purely Conferma che ogni tanto Le vittorie Se le porta a casa Ora qui sono molto curioso Perché abbiamo Gravekeeper Che in realtà Non è neanche così Troppo oppressivo Cioè C'è la super polio Ovviamente Perché comunque serve Abbiamo 3 dragoon Abbiamo 3 dragoon Però è ovvio Serve anche per Fare target Di extravagance Assolutamente Mi aspettavo magari Il target Per Baron e Little Knight Però comunque se non l'ha fatto Avrà avuto I suoi motivi Poi abbiamo Decide Il pack cefalo Regecky Storm Un altro Super poli Dark ruler Rivalità Scontro Cosa Neverly Matched Non c'è neanche Non ci sono neanche Carte come skill drain Va molto Limitato Diciamo Il reparto peschini Che si ci sta Dopi Ha Fusione Occhi rossi Ok Il reparto mostri è abbastanza corposo Nonostante sia un gravekeeper Ovviamente Drago nero E mago nero Che sono un po' dei mattoni Se ti capiscono in mano Quello Non è il massimo Però con tributo reale Puoi andare a cercare di Tappare un pochino Mi piace No il mazzo mi piace molto Poi c'è sempre Lui che più o meno è caruccio Perché tributi e spacchi roba Quindi può essere una soluzione alternativa Per togliere roba Che non riesce a togliere E ok No in realtà mazzo Mi piace un botto Molto probabilmente Sarà il primo Che cercherò di Tra virgolette Fregare Per provare a fare Qualche matchup Ovviamente Sempre con Frego Ma sempre In maniera rispettosa Non è un Ah l'ho fatta Io l'alixan No Lo scriverò anche nei commenti Che non è la mia Per primo posto PK Horus PK Horus Interessantissimo Perché comunque PK Horus Brave Perché magari Si può dire che non sia Il mazzo migliore Su cui utilizzare Questi engine Però Anche qui si conferma Di fare un primo posto Regionale Quindi A me stai lasciando ragione Loro A far pick up Horus Brave token Quindi È molto interessante Hanno dato vita Hanno fatto rivendere vita A questo deck Che Io ho trovato tantissimo Quando uscì Ovviamente Io giocavo Naturalmente Versione classica Pura Swordsoul Tennis Swordsoul è un pochino Che non lo vedevo Effettivamente Mazzo che Comunque Col suo reparto Sinfro È veramente tosto Delle volte È veramente tosto Da buttare giù Fa Scusate Fa tante cose Mi stavo ristruzzando Un'altra volta Sempre con Il piccolo engine Tennis Che è Delle volte È veramente Essenziale Perché è Figlio di Tennis ignoto Quindi È un bastardo Maledetto Swordsoul Tennis Comunque È un mazzo Interessante Che ci sta Avevo fatto Un secondo posto Quindi Era anche un po' triste Non vederlo Delle volte Poi abbiamo Prende Despia Da 847 carte Porco C'è C'è Tutto 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 Giustamente C'è di tutto 8 Superpower Tutto Tutto Con il tutto Quello che c'era da fare L'hanno messo Ci hanno avuto ragione Perché Stavano entrando in top 4 E poi Arrosti Allavens Come sempre È ormai Lista un po' standard Delle volte Cambia Qualche cosina Ma Più o meno Questa è Quindi Ok Tier Lamed Rimane uno dei mazzi Più frequenti Tier Lamed È addirittura Più frequente Di Tenni Se di Tenni Di Unchained Sono rimasto A suo Sul Tenni È più È molto più frequente Dell'Unchained È soltanto Unchained Vince un pochino Di più Cioè Paragonato A Quante volte Viene portato Vince Tante volte Quindi Diciamo Sono Sono i due Che più o meno Sono Quelli Più forti Che vediamo Maggiormente De più Però insomma Sappiamo che comunque I mazzi Che vanno in top Che vengono Sono praticamente Sempre quelli Comunque Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa da pensare Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto A tutti Che vengono Che vengono